Quando lui non ti presenta a parenti e amici, in questo video voglio spiegarti che cosa significa che una persona con la quale sei relazionato, magari anche da un anno, continua a non presentarti a parenti e amici. Beh, significa semplicemente una cosa, che non hai potenziale, che non vuole costruire nulla con te. Perché presentarti a parenti e amici vuol dire prendere un impegno davanti agli altri. È una persona che di fatto non ha voglia di prendersi impegno con te. È inutile che rigiri la salsa e dici, ma qua, là, su, giù, se non ti fa entrare nel suo entourage familiare, perché non vede un futuro con te, non immagina un futuro con te, o perlomeno un futuro di costruzione di qualcosa. Certo, potete continuare a frequentare così, ma non pensa ovviamente che non sei la persona giusta per la sua vita. Questo è un dato di fatto fondamentale. Poi ognuno, diciamo, può credere anche alle favole, si può credere anche all'asino che vola, ma di fatto la situazione si sviluppa in questo modo. Quello che bisogna fare è quindi allontanarsi. L'unico modo è sanzionare, è quello di allontanarsi, prendere le distanze e penalizzare attraverso appunto l'abbandono, il distacco. Soltanto in questo modo si può capire se veramente la persona può essere interessata a fare un passo verso di te, o se comunque non c'è niente da fare. Se comunque non c'è niente da fare, tanto vale andare oltre, tanto vale, come dire, lasciar perdere e cercarsi nuove situazioni, se si vuole una relazione stabile. Se invece va bene una relazione comunque sia, va bene, allora accettala pure, ma renditi conto che mai e poi mai otterrai un impegno da questa persona. Iscriviti al canale YouTube Massimo Taramasco, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi anche su gli altri canali YouTube, Crescita Personale con Massimo Taramasco, Felicità Benessere, Amoro Autostima e ovviamente anche su Instagram e su TikTok. Ciao a tutti!